Da deposito a museo e hotel di lusso, dopo tre anni di lavori, apri battenti a città del capo lo Zeiss Museum of Contemporary Art Africa e si candida a diventare un punto di riferimento per la cultura della capitale sudafricana. I 9.500 metri quadrati distribuiti su nove piani sono destinati ad accogliere le esposizioni di collezioni permanenti e temporanee. È stato infatti pensato per raccogliere, conservare e desporre le opere degli artisti africani del XXI secolo ma avrà anche uno sguardo aperto sul resto del mondo grazie alle mostre temporanee di rilievo internazionale. Dieci anni fa siamo venuti qui con l'idea di realizzare una collezione sull'arte contemporanea africana del XXI secolo e abbiamo lavorato per riuscire a mostrare al pubblico africano, ma non solo, questi capolavori. Racconta Jochen Zeiss, ex amministratore delegato della Puma, che in partnership con la società V&I Waterfront ha investito circa 34 miliardi di euro per dare vita alla nuova istituzione culturale di Città del Capo. L'ex deposito, l'iconico Grand Silo, è stato riqualificato grazie al progetto dello studio londinese guidato dall'architetto Thomas Etherwick, che ha realizzato nello stesso storico complesso un hotel di lusso.